Per mani una condizione di difficoltà per le imprese delle costruzioni molise, lo hanno ripetuto i vertici dell'ACEM questa mattina nel corso del bilancio dell'anno. Finanzieri e militari dell'arma impegnati in queste ore in attività di prevenzione e controllo delle due province. Le fiamme gialle hanno recuperato oltre 15 grammi di droga. L'opportunità di creare sul litorale Adriatico un parco fluviale in prossimità del fiume Trigno, una proposta lanciata da Petacciato per fermare la cementificazione. Prima edizione attorella della natività ambientata tra le antiche botteghe artigiane e legate alla vita degli agricoltori. Domani si replica a Molise. Ben trovati gentili telespettatori. Conferenza stampa di fine anno da parte della dirigenza regionale dell'ACEM, l'Associazione dei Costruttori Edili. Al centro il racconto della situazione difficile delle imprese molisane e le difficoltà a lavorare in serenità. Per gli aderenti all'ACEM, l'Associazione dei Costruttori Edili del Molise, il 2017 è stato comunque un anno complesso e difficile, segnato dalle problematiche legate alla crisi, dalla notevole difficoltà a trovare lavoro in regione, dunque segnato dalla necessità di reperire qualche appalto fuori regione, se non fuori nazione, ma anche e soprattutto declinato dai ritardi con i quali la pubblica amministrazione regola i propri pagamenti, dimostrando di non avere una solida organizzazione adeguata a permettere agli imprenditori e ai lavoratori di sopravvivere. Il bilancio dell'anno, che si sta per concludere, al centro della conferenza stampa convocata dai vertici regionali. Un bilancio di fine anno doveroso per rappresentare anche quello che l'Associazione ha svolto durante il 2017. Il 2017 è stato molto caratterizzato da alcuni eventi che abbiamo messo su, tra cui abbiamo avuto molta attenzione ai pagamenti delle imprese, con colloqui, con incontri in regione per caratterizzare, per scadenzare i pagamenti. Questo bisogna dire che la regione ha mantenuto i suoi impegni, sta mantenendo i suoi impegni, perché ha iniziato a pagare le imprese e sta pagando le imprese. Chiaramente se il 2018 continua sulla falsa riga del 2017, io penso che possa essere un anno positivo. Qualche elemento positivo diciamo che lo si avverte nell'aria. Quello che bisogna fare però, a mio avviso, è riportare l'indotto in questa città e in questa regione, perché l'edilizia è sempre un settore collaterale, trainante, ma collaterale ad altri settori. Per poter, diciamo, avere cantieri, avere gule all'impiede occorre che si incentivi il turismo, che si incentivi la circolazione delle persone, insomma tante cose che portano poi e traino l'edilizia dentro. Domani, intanto, i dirigenti dell'ACEM saranno ascoltati in regione, dove riproporranno l'esigenza di una centrale unica dei pagamenti alle imprese e un conto corrente dedicato, in modo da non disperdere altrove né interrompere i flussi delle risorse che comunque giungono in Molise e, smarrendosi nei meantri di altri impegni, non arrivano alle imprese. Passiamo alla politica. I moderati del centro-destra molisano per le elezioni regionali di marzo puntano molto sul presidente del Tribunale di Isernia, Vincenzo Di Giacomo, in qualità di candidato presidente della coalizione. Energie per l'Italia e il Movimento Agricolo molisano sostengono invece la candidatura del termolese Michele Marone. Altri nel centro-destra stanno provando a convogliare le forze locali in termini di federazione. I punti programmatici sono la sanità, l'occupazione e il sistema infrastrutturale. L'ex governatore regionale Michele Iorio per ora non intende fare passi indietro sicuro dei consensi elettorali in suo favore. Domani i moderati si sono dati appuntamento a Termoli alle ore 17. Siamo adesso alla cronaca. Non si fermano i controlli e le attività preventive per bloccare il traffico e consumo di sostanze stupefacenti in occasione delle festività. All'opera, gli uomini della finanza. Contrasto al consumo di sostanze stupefacenti, alla vendita di droga, una piaga che investe in Molise molte fasce di giovani e non solo. I finanzieri del comando provinciale di Campobasso in questi ultimi giorni di dicembre hanno intensificato i controlli e le indagini nella città capoluogo di regione e con appostamenti delle volanti lungo le principali reti viarie della provincia, Bifernina, Trignina e Statale Adriatica, su tutte. Solo nelle ultime ore le attività hanno consentito di rinvenire oltre 15 grammi di stupefacenti. I servizi di prevenzione e controllo del territorio da parte degli agenti delle fiamme gialle sono stati supportati dai cani antidroga. 238 sono state in totale le segnalazioni per violazioni in materia di stupefacenti in questo 2017. Per la finanza nove spacciatori sono stati individuati e finiti in manette, mentre supera i 22 chilogrammi la droga complessivamente finita sotto sequestro. A Santa Capito i posti di blocco dei carabinieri hanno condotto all'arresto di un casertano con a carico numerosi reati che vanno dalla ricettazione al porto abusivo di armi, dalla truffa all'associazione per delinquere. A Di Serni è scattata invece una denuncia per guida in stato di ebbrezza a carico di due giovani alla guida delle rispettive auto, completamente ubriachi. Nei loro riguardi anche il sequestro dei veicoli e il ritiro della patente di guida. Infine ad Agnone i militari dell'arma hanno denunciato per commercio abusivo un napoletano intento nella vendita di profumi in assenza delle autorizzazioni amministrative. E' in corso di stampa un libro inchiesta che racconta la vicenda delle indagini ambientali nella zona di Capoiaccio di Cerce Maggiore, dove erano stati ubicati alcuni pozzi petroliferi della Montedison. Seguiamo. Il titolo del libro è di quelli ad effetto, perché, parafrasando un capolavoro cinematografico di Roberto Rossellini, Germania Anno Zero, si intitola appunto Capoiaccio Anno Zero, recitando come una sorta di sottotitolo tutta la storia dei pozzi petroliferi di Cerce Maggiore dagli anni Sessanta fino alla scoperta dei livelli abnormi di radioattività nel terreno. Ne è autore il consigliere regionale Salvatore Ciocca, che ha voluto misurarsi nel gioco dell'inchiesta, proponendo alle stampe questo suo volume che è in pratica il percorso relativo alle indagini ambientali condotte tra il 2014 e il 2015 nell'area dove insistevano appunto i pozzi petroliferi della Montedison. Un percorso sollecitato dall'autore che a suo tempo cercò il coinvolgimento di ogni livello istituzionale, permettendo così la scoperta di quell'immenso abnorme, dice lui, tasso di radioattività gamma e notevoli tracce di diclorometano e benzene, tracce dimostratesi superiore a quanto stabilito nel codice dell'ambiente. È un viaggio di una persona oggi nelle istituzioni regionali che ripercorre una cronaca di 50 anni, raccontata attraverso i documenti originali, un viaggio che ha inizio da quando la società petrolifera aveva dato inizio alla ricerca del petrolio nella nostra regione. Documenti importanti, come i verbali del presidio multizonale di igiene pubblica, che più volte aveva riscontrato anomalie e la possibilità che ci fossero possibili casi di inquinamento ambientale, ma anche le tante dichiarazioni che attestavano traffici illeciti non autorizzati di materiale sconosciuto che probabilmente finiva nei pozzi sigillati negli anni Ottanta. Tutta la documentazione che è stata possibile reperire, compreso le analisi pregresse del 2013 e gli atti della prima inchiesta giudiziaria del 2007. Il volume è in fase conclusiva di stampa. Il consigliere Ciocca ci fa sapere che sarà disponibile a giorni e lo presenterà al più presto. Saperi, abilità, certificazioni e competenze. Domani e venerdì 29, apertura straordinaria degli sportelli della Segreteria Studenti e diritto allo studio dell'Ateneo Molisano. L'Unimol si arricchisce di un percorso di alta formazione universitaria orientato alla preparazione dei prossimi concorsi nella scuola e al tempo stesso acquisire abilità certificate necessarie alla professione docente. La testata giornalistica L'Eco dell'Alto Molise e Vastese ha donato alla Casa di Riposo San Bernardino di Agnone 10.000 euro in occasione della tombolata natalizia di fine anno. Una goccia e mezza ad un oceano, la citazione del direttore della testata Maurizio d'Ottavio, che tuttavia vuole essere un segnale di vicinanza ad una realtà da sempre patrimonio di professionalità e umanità, nella quale sono ospitati 45 anziani. Stop alla cementificazione sul territorio di Petacciato e Spazio ad un possibile progetto alternativo di parco fluviale e turismo rurale, un'idea in prossimità del litorale Adriatico e del fiume Trigno. Risanare il vasto movimento franoso che abbraccia buona parte del territorio di Petacciato fino al mare potrebbe, in un futuro non molto distante, creare le condizioni per iniziare a parlare di turismo rurale parco fluviale. L'area interessata dal progetto sarebbe quella delimitata a sud dal comune di Termoli e a nord da quello di Monte Nero di Bisaccia. L'idea progettuale ci viene spiegata dall'architetto Domenico Staniscia. Fare un bel parco rurale in cui viene consentita la coltivazione ma anche altre attività turistiche ricettive a patto però di risanare la frana perché risanando la frana almeno si restituisce l'edificabilità di una normale zona agricola, si permette l'attività ricettiva, non so, il turismo rurale, altro tipo di attività. Teniamo conto che poi questa zona, 500 ettari, diventa la cerniera per portare lo sviluppo da Termoli fino a Fiume Trigno per connettere questi due territori. Termoli è ormai inflazionato, praticamente le costruzioni sono arrivate a confini, quindi tutto Termoli nord potrebbe trovarsi su quest'area una zona verde libera o comunque una zona ambientalmente molto appetibile e quindi da percorrere a piedi magari per le escursioni, per tante cose. Poi da questa zona noi arriviamo direttamente sulla pineta di Pedacciato, dalla pineta possiamo arrivare sia ai terreni alluvionali di Montenero a confine, sono terreni, ma il mare si è represi, sono zone verdi, aree verdi e da qui al Trigno il comune di Montenero mi risulta che ha già un progetto per poter fare un parco fluviare alla foce del Trigno, quindi noi avremo un grande parco a livello territoriale nel Basso Molise parte dal territorio interno e arriva al Trigno, quindi diventa un elemento unificante e allo stesso tempo il comune di Pedacciato messo sulla collina che ha tantissime abitazioni sparse, potrebbe disabitate, potrebbe servire praticamente come un grande albergo diffuso per portare lo sviluppo, quindi io vado al mare a piedi attraverso il parco oppure c'è il turista che mi affitta la casa o viene su Pedacciato che ha tutto questo territorio, non soltanto la spiaggia, ha tutto questo territorio al suo servizio per fare quello che vuole. Chiaro che occorrerebbe l'ente regione o chi per lei che si faccia carico di portare avanti un progetto di questo tipo, completamente alternativo agli alberi calcemento e tutto il resto. Al Circolo Sanitico di Campobasso ci sarà nel pomeriggio la presentazione del viaggio nel Molise di Francesco Iovine, una nuova edizione ampliata a cura del docente dell'Università di Salerno, Sebastiano Martelli. Interverranno a partire dalle ore 17, Pierpaolo Giannubilo, Norberto Lombardi e Antonella Presutti. 25 anni di avventure alla scoperta di mondi perduti dalle grotte del Messico ai ghiacciai del Polo Sud, attraverso il volume nel cuore della Terra, l'esplorazione sotterranea del pianeta attraverso i cinque continenti. La presentazione del volume oggi alle 18.30 all'ex ONMI di Campobasso. 10.000 euro in favore di ogni azienda giovanile molisane-abruzzese che intende creare nuova occupazione e autoimprenditorialità. Le domande della misura nazionale denominata Resto al Sud saranno aperte dal 30 gennaio. che sono dirette essenzialmente nel mondo dei giovani e misure che sono dirette a sviluppare quegli aspetti di digitalizzazione che sicuramente negli anni futuri avranno un grosso impatto sulla vita delle aziende e sulla vita anche delle persone che sicuramente dovranno attivarsi per utilizzare questi strumenti. Può essere un trampolino di lancio per superare la crisi? Sicuramente per i giovani è un trampolino di lancio per superare la crisi. Se non altro avranno la possibilità di creare nuova occupazione e di crearsi delle possibilità che per il futuro potranno avere degli sviluppi che permetteranno loro di poter affrontare la vita in maniera sicuramente più positiva considerando che oggi il concetto di posto di lavoro fisso è completamente cambiato. Per cui l'autoimprenditorialità attraverso l'utilizzo di queste misure Resto al Sud può sicuramente costituire un mezzo per poter superare la crisi. Vi siete fatto un'idea sulla fattibilità di queste misure? Allora io penso che queste misure, viste magari sotto l'aspetto anche cumulativo, nel senso di giovani che vogliono mettersi insieme e che hanno un'idea, penso che ci possono essere dei risultati molto positivi anche perché le risorse finanziarie messe a disposizione sono abbastanza ingenti tali da permettere il finanziamento di diverse iniziative. A Palazzo Ducale di Larino questa sera alle ore 18 la presentazione del libro Con la luna sotto il braccio scritto da Fulgenzio Caradonio. Il libro consiste in una raccolta di poesie scritte tra il 1969 e il 79. L'evento è organizzato dal circolo Hauser, introduzione musicale a cura dei docenti del villaggio delle arti ed ancora un altro libro, inchiesta questa volta sui profondi legami tra i conflitti armati e l'uso di droghe ai soldati inviati in Afghanistan, Kosovo, Libano e in tutta l'area dei Balcani. Questa sera alle 18.30 nella sede dell'ex lavatoio di Isernia la presentazione del volume Guerra e droga del reporter di Guerra Alessandro De Pascale, un evento promosso dall'Arci. E cambiamo totalmente genere ieri sera a Torella del Sannio, domani nella vicina Molise. Nei due paesi per la prima volta i giovani del posto hanno realizzato e curato la sacra rappresentazione della natività. Vediamola assieme. Oltre 30 figuranti, 9 ambientazioni ricreate nella parte più antica del paese, l'impegno dei giovani del posto, della proloco e parrocchia. A Torella del Sannio la prima edizione del presepe vivente che ha richiamato curiosi e fedeli anche dai centri limitrofi. Le vecchie cantine e stalle del paese sono state riaperte per l'occasione per mostrare ai visitatori le botteche artigiane di un tempo, dal falegname al fabbro, dal macellaio al fruttivendolo. È stata una bellissima impressione, mi ha fatto e veramente c'è stata molta gente e questo ci lascia ben sperare per proseguire questa manifestazione. Abbiamo riscoperto una parte di Torella dove ultimamente, negli ultimi anni, data il calo demografico, erano delle zone un po' abbandonate. C'è stata molta disponibilità delle persone ad aprirci le loro cantine e metterle a disposizione. Veramente ci hanno aiutato in tutto. È stata patronginata dal comune di Torella, dal comune di Molise, naturalmente nella proloco di entrambi i paesi e sempre con la parrocchia sia di San Nicola, di Torella e di Molise. Domani all'imbrunire l'appuntamento con la natività sarà ripetuto nel piccolo borgo di Molise, una sorta di gemellaggio con finalità sociali e culturali con i giovani di Torella per ricreare le magie del Natale. Veramente oltre a noi di Torella c'è stata la partecipazione di molta gente di fuori, soprattutto di Molise, dove c'erano anche dei figuranti di Molise, dei compagni, degli amici dove ormai condividiamo queste manifestazioni. Giovedì ripeteremo la manifestazione a Molise. Ormai con Molise ci siamo in gemellaggio, sì, un gemellaggio è una parola, però è nata questa bellissima amicizia e dopo l'esperienza della passione vivente che abbiamo fatto quest'anno a Torella e poi a Molise vorremmo riproporre la stessa cosa, di fatti oggi abbiamo fatto a Torella e giovedì alle 17.30 a Molise con gli stessi personaggi cambieranno naturalmente, cambierà lo scenario, sarà uno scenario diverso, ma speriamo di divertirci come questa sera. Si ripeterà a Capodanno il 6 gennaio la Natività San Felice, un'occasione per visitare il tipico presepe vivente, è una opportunità di arricchimento culturale tra i vicoli del centro di origine croata, 40 le scene di ispirazione biblica e della vita quotidiana dei tempi passati. E causa le avverse condizioni climatiche, la prima edizione del presepe vivente del borgo antico a Pietra Bondante è stata spostata al 4 gennaio. La sacra rappresentazione è composta da due quadri scenici, l'Annunciazione e la Natività, oltre che da numerose scene di vita e di lavoro della società agropastorale, inizierà da via Porta dei Santi per giungere in via dell'Olmo. E siamo adesso alle previsioni del tempo. Piogge sparse fino a sera sulle zone interne del Molise, parzialmente coperto sul litorale adriatico. Le temperature odierne sono previste tra i 5 gradi di campo basso e la massima di 12 a termoli, ventilazione meridionale, mare mosso. Domattina iniziali condizioni di cielo variabile sulla regione, valori climatici in calo, i venti si disporranno da sud-ovest. Domani pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Sernia, in programma la seconda tappa della Festa del Giovane Calciatore, edizione invernale della manifestazione riservata alle categorie piccoli, amici e primi calci. I prossimi appuntamenti con l'iniziativa sportiva itinerante della FIGC sono sempre a Disernia il 4 gennaio e a Campobasso il 13 gennaio. Ed infine è stato un 2017 positivo per il progetto Minibasket avviato a Campobasso dal Cusmo Lise e dalla Cestistica, al quale si sono aggiunti nel corso dell'ultimo anno altri centri che hanno ampliato le basi di un'attività di qualità e valenza non solo sportiva ma anche umana ed educativa. Il progetto ha portato in tutto ad elevare il numero degli iscritti fino a 170 unità. E con questa notizia è tutto, grazie per l'attenzione e risentirci alle edizioni prossime. Grazie a tutti.